Liste di attesa a Cisanello. A margine del Consiglio regionale è stata affrontata la questione della priorità su base residenziale delle visite specialistiche all'ospedale di il presidente Gianni ha annunciato verifiche. Certaldo 22, le mostre al via, presentata a Palazzo del Pegaso, l'esposizione che racconta tre artisti toscani tra passato, presente e futuro. Buonasera e ben ritrovati a Monitor Consiglio. Parliamo di salute in apertura perché a margine dell'ultima seduta del Consiglio regionale è stata affrontata la questione della priorità data ai residenti a Pisa per quanto riguarda alcune visite specialistiche all'ospedale di Cisanello. Sulla questione si è espresso anche il presidente Gianni che ha annunciato verifiche sullo stato delle cose. Sentiamo le interviste. Rispetto al criterio della residenzialità conta a mio giudizio quello che è il profilo del territorio di Asla. La Toscana ha tre Asla territoriali, da un lato l'area centro Firenze-Prato-Pistoia, dall'altro l'area sud-est Siena-Rizzo-Grosseto, dall'altro l'area della costa e del nord-ovest e quindi Livorno-Pisa-Massacarrara-Lucca. Ecco, nelle Asle territoriali chi è residente ha il carattere chiaramente di priorità e di cura. Non ci può essere all'interno di un Asle una preferenza su quello quell'altro comune, provincia, territorio non sarebbe corretto. Quindi ora io verificherò le normative. Può darsi, vi siano effettivamente delle normative a cui si è fatto riferimento antecedenti alla riforma delle Asle e quindi si rimedierà perché naturalmente bisogna che tutti i cittadini della stessa Asle abbiano gli stessi diritti. In questo caso Livorno-Pisa è la stessa Asle, quindi non c'è e non ci deve essere anche su queste cose il campanilismo della priorità territoriale fra città o province della Toscana che fanno parte della stessa Asle. C'è anche un tendenziale equivoco nel senso che a Pisa si sta parlando delle visite base di primo livello di alcune visite, non quelle che caratterizzano gli ospedali come ovviamente Cisanello, cioè le visite di secondo livello che non hanno assoluta limitazione per nessuno, sono aperte a tutti, anzi lo dicono i dati sull'attrazione, Cisanello è uno degli ospedali toscani che ha maggiore attrazione, cioè sono tantissime le persone che non solo da altre parti della Toscana ma anche da fuori regione vengono. Lì si tratta di un percorso di abbattimento dei tempi di attesa, ogni ospedale ha come riferimento principale i cittadini residenti nel proprio bacino, quelli universitari e anche gli altri ospedali e su quello devono garantire il rispetto dei tempi. Poi ovviamente hanno liste aperte anche per tutti gli altri cittadini, quindi ogni cittadino dovrebbe avere il punto di riferimento nell'ospedale di residenza perché sono visite base, non da ospedale universitario. Questo è il primo elemento a chiarire perché si è detto ma allora gli ospedali universitari garantiscano le prestazioni solo per chi risiede in quella città, non è assolutamente così. ovviamente la situazione è così da almeno il 2017, il 2016, il 2017, quindi non c'è nessun tipo di novità se non per il fatto che con il Covid sono saltate molte liste d'attesa e quindi trovandosi la gente, liste chiuse da tante parti, cosa che non dovrebbe essere, ovviamente è venuto fuori anche questo che è un elemento semplicemente per garantire il rispetto dei tempi d'attesa e che si calcolano con i cittadini di riferimento dell'ospedale. Però non c'è nessun ospedale chiuso e noi speriamo, chiediamo alla Giunta, abbiamo già chiesto, il piano di abbattimento delle liste d'attesa nelle prossime settimane possa produrre i propri effetti e superare anche queste strutture. Ma in questi anni l'azienda ospedaliare a Pisana si è comunque parametrata come un'azienda di eccellenza, cioè l'ospedale di Pisa non era l'ospedale del territorio di Pisa, ma un ospedale di eccellenza che avesse come minimo un respiro regionale, così come per alcune altre cose valeva per Careggi e per altre per le scotte di Siena. È evidente che questo tipo di decisione va nella direzione invece di ridurre comunque la prospettiva dell'azienda ospedaliare a Pisana che per noi deve continuare ad essere una prospettiva di grande respiro e quindi Pisa, Cisanello, il nuovo Santa Chiara essere comunque un centro di eccellenza e per essere tale evidentemente non può curare o prendersi cura e carico soltanto dei pazienti residenti nel comune di Pisa. Da questo punto di vista ho presentato questa mattina un'interrogazione chiedendo se quella scelta è condivisa dall'assessore, è stata presa da chi, con quale atto e quando, perché di tutto questo non noi siamo assolutamente all'oscuro. Apriamo una finestra dedicata alla cultura, all'arte, in partenza, anzi sono partite le mostre di Certaldo XXII, la manifestazione dedicata all'arte del comune della provincia di Firenze. In esposizione ci saranno tre artisti toscani, Luigi Montanarini, Gianpaolo Talani e Claudio Cionini. L'iniziativa è stata presentata a Palazzo del Pegaso, sentiamo le interviste che sono quelle realizzate con Francesca Parri, organizzatrice dell'evento e con il sindaco di Certaldo. Saranno allestite tre mostre in Palazzo Pretorio per la rassegna Certaldo Arte XXII. La prima sarà inaugurata sabato prossimo, 9 aprile, e sarà dedicata a Luigi Montanarini, grande artista a livello internazionale, artista fiorentino di nascita, romano d'adozione. Un legame fortissimo con Certaldo, quello di Montanarini, perché Montanarini partecipò a un concorso organizzato dal comune di Certaldo con omaggio a Boccaccio. Nel 1966 furono scelti due suoi disegni ispirati alla figura di Nastagio degli Onesti del Decamerone. Questi due disegni saranno esposti nella mostra, oltre a tutto il carteggio tra il comune di Certaldo appunto e Montanarini, che è valso veramente la pena di esporre perché strattasi di lettere scritte con una calligrafia veramente elegante che ad oggi non si vede più. La mostra successiva sarà inaugurata invece a giugno e sarà dell'artista Giampaolo Talani di San Vincenzo, scomparso nel 2018. Conoscitissimo Talani qua a Firenze, abbiamo l'affresco alla stazione di Santa Maria Novella a Freschi, datato 2006. Una cosa simpatica è il nome del titolo della mostra, Anima Sola, Viaggio a Finisterre. Il titolo è stato scelto dal figlio Martino durante un sopralluogo a Certaldo Alto di qualche mese fa perché il Palazzo Pretorio gli ha evocato, ricordato un dipinto del padre che è il Castello di Sabbia di Finisterre. Una cosa importante è che l'ultima mostra che ha fatto Talani risale al 2019 ed è una mostra importante fatta ai magazzini del sale di Siena e l'unica mostra che sarà allestita di Talani nel 2022 è esclusivamente la mostra di Certaldo. Si chiude invece con Claudio Cionini, pittore che vive e lavora a Piombino. I suoi quadri sono immediatamente riconoscibili perché sembrano delle vere e proprie immagini fotografiche. Cionini ritrae paesaggi industriali, basta pensare alla sua Piombino con le acciaierie così come alle metropoli. Concludiamo dicendo che sono tre artisti, tutti e tre toscani, il passato, il passato prossimo, il futuro, ma in realtà sono tutti quanti con le loro opere ancora tutti presenti qua con noi. Le nostre sperimentazioni di unione fra il Palazzo Pretorio che è un palazzo medievale con degli affreschi splendidi che ha sempre ormai da anni valorizzato l'arte contemporanea. Noi abbiamo promosso ormai da un po' di tempo questi percorsi artistici con queste mostre temporanee. Il Palazzo Pretorio ha delle sale bellissime anche con esposizioni permanenti, con museo permanente, ma ha tutto il primo piano a disposizione per queste mostre temporanee. È sempre stata la sua forza, quella di essere un polo espositivo di arte contemporanea a livello toscano che ospita continuamente mostre di carattere importante e il nostro tentativo è sempre stato quello di allargare l'orizzonte, valorizzare gli artisti locali da una parte e allo stesso tempo portare artisti di livello nazionale e internazionale. Il Palazzo Pretorio è a disposizione dell'arte ed è a disposizione della qualità artistica. Il percorso di quest'anno realizzato con l'apporto di Exponent con la curatrice Francesca Parri è sicuramente un onore e un orgoglio. Si rivolge innanzitutto all'arte toscana, alla nostra regione e cerca anche di portare quella che è la produzione artistica dei toscani, del passato e del futuro, a livello per farli ulteriormente conoscere ma soprattutto grazie a loro e alla loro internazionalità far conoscere il nostro territorio, Certaldo, Palazzo Pretorio e il borgo medievale. In più in un percorso assolutamente convincente e coinvolgente perché si rivolge all'arte del passato in qualche modo ma dà uno sguardo anche al futuro. Quindi la centralità della nostra regione, la centralità della nostra arte, grazie a quanto questi artisti sono importanti e alle esclusive anche artisti che queste mostre portano a livello internazionale, noi valorizziamo anche Certaldo Alto che sta dando importanti risultati anche nei numeri del turismo in crescita anche post pandemia e noi siamo convinti che oltre allo sforzo di promozione dell'amministrazione comunale sia un connubio fra eventi culturali e fra la parte convegnistica, la parte artistica e quindi un connubio di turismo legato soprattutto al fenomeno culturale che Certaldo offre. Un'altra mostra stavolta fotografica e stavolta aperta al centro expo del Palazzo del Pegaso a Firenze, si chiama Voci di Libertà e racconta attraverso le immagini le esperienze dei combattenti alleati di origine italiana nella seconda guerra mondiale. Sentiamo le interviste realizzate con Matteo Pretelli, uno dei curatori della mostra insieme a Francesco Fusi e poi l'intervista al presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Beh, i numeri sono difficili da quantificare, però possiamo ipotizzare che almeno gli italo-americani furono 850 mila. Poi furono svariate migliaia anche gli italo-australiani, italo-canadesi, italo-brasiliani e italo-britannici. Però, come dicevo, non è semplicissimo stabilire un numero esatto. I italiani all'estero spesso avevano il marchio di essere, insomma, collaborazionisti. Come è nato questo movimento, questa adesione alla loro deliberazione? Beh, sì, originariamente gli italiani all'estero avrebbero un sentimento quantomeno filofascista, se non da un punto di vista ideologico, da un punto di vista più prettamente sentimentale, perché spesso bistrattati nelle comunità ospiti vedevano in Mussolini una sorta di redentore dell'italianità. Però, con la scoppia della guerra, gli italiani all'estero si trovarono spesso nemici dell'Italia e quindi furono, purtroppo, etichettati come potenziali quinte colonne. Ecco, da quel momento in poi scattò un sentimento di rivalza e si voleva dimostrare il proprio filo-americanismo in primo luogo, ma patriottismo a livello generale a sostegno dei paesi ospiti. È una pagina di storia poco conosciuta che mi ha colpito tanto. Qualche mese fa, quando vennero a raccontarmi, a presentare questa mostra, fui così colpito che dissi facciamola subito, ma mai mi sarei immaginato di vedere oggi qui questa mostra e in contemporanea vedere le terribili immagini che arrivano dall'Ucraina. I genocidi, la violenza, la guerra che sta devastando una comunità e un popolo, quello ucraino. Questa mostra è un modo per dire grazie, grazie ai tanti uomini, ai tanti ragazzi che vennero a difendere la libertà della nostra terra. Erano figli di emigrati, soprattutto emigrati negli Stati Uniti o in Brasile e tanti di loro solo dopo l'armistizio potrebbero conoscere la loro famiglia, i loro avi e credo che insomma ricordarli oggi qui è un modo per dire grazie, ma anche per dire una cosa importante, che quello che è accaduto può accadere di nuovo e non bisogna mai voltarsi dall'altra parte, ma bisogna lavorare tutti insieme, ognuno per quello che può, perché in Ucraina torni la pace e scene come quelle che stiamo vedendo terminano velocemente. Chiudiamo con la tramvia di Firenze perché è stato annunciato l'accordo raggiunto per il nuovo percorso della tramvia che collegherà Firenze con Sesto Fiorentino. L'accordo è stato raggiunto tra Regione e Comuni di Firenze e Sesto. Sentiamo le interviste al Presidente della Regione Eugenio Gianni e al Capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione, Francesco Torselli. È molto importante l'accordo che abbiamo raggiunto, naturalmente la Regione Toscana che guida, la Commissione di Vigilanza, del resto la Regione Toscana è quella che mette dei soldi sostanzialmente e quindi con il Comune di Firenze, con il Comune di Sesto Fiorentino, con una costante approfondita informazione l'Università di Firenze si è concordato quello che sarà il tracciato su cui sviluppare la progettazione, perché da Firenze a Sesto, passando per Peretola, dove non ci sarà una rottura di carica, cioè scendere dal tram numero 2 della linea per salire su quella di Sesto, ma sarà una continuazione. La linea 2 si arriverà con un tratto sufficientemente veloce, che quindi non consenta tante deviazioni, al centro di Sesto Fiorentino. Ci sarà una fermata dentro il polo e sarà chiamata polo universitario scientifico di Sesto. Noi abbiamo costruito un polo scientifico di eccellenza a Sesto Fiorentino nel deserto. Quando è stato realizzato il polo scientifico a Sesto Fiorentino è stato realizzato nel nulla. Sembrava veramente un film di fantascienza, le prime immagini di un'università costruita nel deserto. La risposta era sempre la solita, aspettate, perché tra qualche anno arriverà la tramvia, perché tra qualche anno arriverà la tramvia e questo polo non sarà più nel deserto, ma sarà collegato con la città. Stamattina, a parte che anche lì abbiamo perso dieci anni per strada dalla realizzazione alla messa in ponte dei lavori, stamattina apprendiamo che la tramvia non andrà al polo scientifico, ma andrà in un liceo lì vicino. Questa è la mancanza assoluta di progettualità della quale noi accusiamo la sinistra toscana. Tu realizzi una cattedrale nel deserto perché un domani sarà servita la tramvia, arrivi dieci anni dopo e decidi di cambiare il percorso della tramvia e la mandi giustamente a servire un liceo lì vicino, ma non il polo scientifico e quindi resterà una cattedrale nel deserto. Io ho sentito parlare di bus. Nel 2022 la regione toscana immagina di realizzare un'infrastruttura importante, pesante, impattante come la tramvia che collega Peretola con Sesto Fiorentino, portarla a Sesto Fiorentino di fronte a un liceo e da lì far partire dei bus che portano gli studenti universitari verso il polo scientifico costruito. Non è che l'avevamo lì dall'epoca romana, l'abbiamo costruito dieci anni fa nel deserto. A me sembra di sognare e purtroppo invece sono le parole dette stamattina mattina dal governatore della Toscana. È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.